I stadi fatti di tribune e spalti ai campi di calcio in miniatura. I colori dell'Aquila Calcio tagliano un altro piccolo traguardo e sbarcano nel subuteo grazie al gemellaggio con gli atleti della società Area Sport impegnati nel campionato di Serie D e che nei match della stagione ormai alle porte indosseranno la casacca rosso-blu. Queste iniziative devono essere premiate sempre di più, io credo, in questi gemellaggi tipo questo. Il fatto che loro giocheranno con la squadra, con la maglia dell'Aquila Calcio è veramente per noi un onore. Sono convinto che bisogna sempre di più unire queste realtà all'Aquila Calcio. L'Aquila Calcio magari è la squadra madre e poi loro sono le squadre satelliti. Sono iniziative che sicuramente ci premiano. Un'iniziativa importante che punta a coinvolgere anche giovani appassionati nelle scuole del territorio e che nel prossimo weekend vivrà il primo momento saliente con un torneo di subbutio a cui parteciperanno squadre e giocatori da ogni parte d'Italia e del mondo previsto sui campi degli impianti del complesso Area Sport a Monticchio. Sabato 19 e domenica 20. Sabato 19 è un torneo nazionale a squadre. Tra cui ci sarà anche Massimo Bolognino che è campione del mondo veteran e invece domenica avremo gli individuali e quindi anche lì ci saranno grandi nomi che verranno un po' da tutta l'Italia. Quindi noi ci teniamo e abbiamo riportato soprattutto questo sport che negli anni 80-90 praticamente era praticato un po' da tutti quanti. E oggi c'è un bel ritorno. Infatti la federazione oggi conta quasi 4.000 iscritti. Sì, ringraziamo innanzitutto l'Aquila Calcio per averci appoggiato in questa iniziativa. Del resto noi facciamo il calcio in miniatura e loro giocano il calcio sui campi verdi. E quindi credo che sia molto bello questa iniziativa dell'Aquila Calcio e speriamo che ci possa tragettare anche in situazioni più belle. Anche perché abbiamo iniziato dall'anno scorso a fare il campionato di Serie D. La federazione calciotavola è una federazione affermatissima anche a livello internazionale tant'è che domenica scorsa si sono giocati i campionati del mondo a San Benedetto. E quindi noi abbiamo ricostruito ed iniziato questa nuova avventura un po' per passione e soprattutto raccogliendo tutti quelli che erano i vecchi giocatori e i vecchi appassionati di questo sport perché oggi è considerato tale.